Mi stai bene? Siamo arrivati. Ma come hai fatto? Il tuo profumo contiene tracce di elicriso. Una pianta che cresce solo nelle zone calde e vicino alle coste. Troveremo le prove per incastrarlo, fidati. Certo. Come l'ultima volta, no? C'è un altro ragazzo che sta vivendo un momento complicato. Che famiglia o no? Padre, lo sai che sei qui? Cosa va in silucare? Ti aiuto? Non è quello che vuole. Tu sarai la prisione di te. Sono io che non la prisione di te. Ti cercavi il lucchetto d'aprivo? Nathan, quel uomo? Ha scoperto. Ma come hai fatto? Il tuo profumo contiene tracce di elicriso. Una pianta che cresce solo nelle zone calde e vicino alle coste. Alla fine hai capito cosa ne è successo? Te l'ho detto l'anno avvenenata. Il bastardo di varone. Il bastardo di varone.